Joanna, In Cammino è un documentario road movie che si svolge proprio in cammino. Spesso il cammino è un cammino fisico ma soprattutto interiore? Infatti, soprattutto mi fa piacere poter proiettare il film qua, a Mond. E poi decisamente la mia idea era quella di raccontare le storie dei pellegrini moderni del giorno di oggi e i motivi per cui fanno il cammino perché alla fine c'è sempre una storia che uno porta dietro di sé o con se stesso quando va in cammino e quindi volevo indagare un po'. Quanto è importante raccontare i cammini con l'audiovisivo o con il cinema? Secondo me è molto importante raccontarlo in modo attraente allo spettatore ma anche in modo immersivo. perché l'idea di questo film era raccontare il territorio, raccontare la via di Francesco e le storie dei pellegrini non attraverso uno spot pubblicitario ma proprio un documentario che fa allo spettatore, che gli fa vivere le emozioni e le esperienze che vivono i pellegrini. Secondo me un documentario di stile come qui piuttosto osservazionale lo permette. Ed è un cammino sia fisico, un percorso fisico ma anche interiore quello che compiono i protagonisti? Sì assolutamente, ci sono diverse storie che cominciano spesso in modo anche umoristico, molto insomma facile come il cammino all'inizio ma poi strada facendo scopriamo sempre di più su queste persone, su quello che stanno attraversando, non solo il percorso che fanno lì ma proprio quel percorso interiore e credo che sia sì il valore più importante di questo documentario.